Guardano il bicchiere mezzo pieno gli operatori ecologici di AC Sant'Antonio, nonostante l'avvertenza che li riguarda sia ingarbugliata e lunga nei tempi dei suoi sviluppi. Il pagamento della mensilità di dicembre, arrivato nei conti correnti di questi lavoratori proprio in queste ultime ore, e l'acconto dello stipendio di maggio concesso dalla ditta che sta gestendo il servizio di raccolta e smaltimento in città, la IPI, mette di buon umore lavoratori e sindacato. Ma questo non basta a rasserenare gli animi. Il conto in sospeso che i venti netturbini hanno con la geoambiente si giocherà nell'aula del Tribunale, perché è in questa sede che questi lavoratori sperano di recuperare gli arretrati. E' ottimista il sindacato che spera di recuperare dal fondo di garanzia dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile, oltre al TFR, il trattamento di fine rapporto. Andranno perdute sicuramente le somme maturate da servizi di straordinario e altre somme accessorie. E' ormai questione di ore la dichiarazione di fallimento della geoambiente, la ditta che ha gestito il servizio di igiene pubblica da C. Sant'Antonio per anni, e che ad un certo punto lo ha sospeso perché è in stato di crisi. Con l'arrivo del commissario straordinario è arrivata anche la fine del contratto con il Comune, il quale, insomma, urgenza, ha dovuto affidare l'appalto ad un'altra ditta. Secondo quanto riferito dal sindaco Caruso, la IPI si occuperà anche del servizio di scerbatura di strade e aiuole.